lo rifanno lo rifanno e questa diventerà la nostra giocata cioè questa diventerà la nostra specialità e qui siamo i numeri uno nel mondo sappiamo già come si fa lo possiamo replicare e ragazzi a parte gli scherzi a parte le risate che questa notizia sta riportando nel mondo milan ma alla fine se dovessero davvero farla e se dovesse davvero sbloccare la trattativa ben venga sarei anche favorevole a questa roba perché credo sia l'unico modo per uscirne vivi da questa situazione e l'unica cosa che conta è il bene del milan non l'orgoglio dei dirigenti non le tasche dei dirigenti e molti tifosi devono imparare a fare i tifosi del milan non i tifosi della società non i tifosi del bilancio molti mi dicono ehi ma io non pagherei le commissioni ma che dici ma quel pre ma che te ne frega a te di pagare commissioni ma a te ti interessa di guardare il calciatore in campo e godere delle sue prestazioni ti interessa quello che magari per 5 milioni in più 5 milioni in meno commissioni vedi i giocatori andare dall'altra parte tu ram poteva essere un giocatore del milan e a voglia se sarebbe servito a voglia e invece lo perdi per quei 2 3 milioni commissioni che te ne frega a te ma andiamo alla notizia del giorno like in questo momento se hai una famiglia perché se hai una famiglia un domani questa cosa potrebbe tornarti utile quindi specialmente se vuoi andare a giocare del milan perché la famiglia nel milan è fondamentale manco nel padrino era così fondamentale la famiglia allora andiamo a parlare della famiglia è quello che potrebbe sbloccare la trattativa zizè sì ragazzi lo fanno dopo i fratelli donna rumma dopo quell'idolo del fratello di donna rumma che era venuto a rubare un milione all'anno con procuratore minoraiola sempre per ricordarci le parole di zlatan ibrahimovic ma noi non facciamo beneficenza quando il suo procuratore era minoraiola quindi zlatan ibrahimovic è meglio se fai silenzio e taci e taci tu e tutti quelli che in questo periodo ti stanno venendo dietro taci che parli di beneficenza quando avevi minoraiola come procuratore e ti dovresti soltanto stare zitto quindi taci taci hanno trovato probabilmente la soluzione donna rumma per zirzè perché zirzè ha un fratello e quando tu hai un fratello lo possiamo utilizzare perché si è capito ragazzi il milan potrebbe anche arrivare a pagare queste commissioni ma da quello che esce da casa milan sembrerebbe che il milan non vuol farsi vedere debole perché sennò poi alla prossima trattativa il prossimo procuratore farà la stessa roba e quindi vogliono far vedere che loro sono comunque duri perché comunque questa nominata il milan che non paga le commissioni ce l'ha poi alla fine si fa fregare tutti i calciatori anche quest'altra nominata che non è tanto piacevole quindi magari inserendo il fratello un certo jordan zirzè classe 2005 che gioca nell'under 19 del bayern levercuse questo è tutto quello che so del piccolo jordan ma grazie a lui si potrebbe comunque scavalcare questa roba delle commissioni anche perché in tantissimi me l'hanno scritto il fatto di dire magari vai a comprare un giocatore no perché le alternative zirzè lo paghi 40 milioni mettiamo 10 15 milioni di commissioni arriviamo sui 55 milioni di euro ecco tutti i nomi che hanno fatto associati al mina più o meno avevano quel prezzo no si aggiravano intorno ai 50 milioni però se tu paghi il cartellino 50 milioni poi lo puoi ammortizzare negli anni se tu paghi le commissioni sono soldi belli che andati quindi stanno cercando magari qualcosa di alternativo per riuscire alla fine a pagare queste commissioni senza andare a perderci troppo e la scelta zirzè jordan quindi il fratellino fa abbastanza ridere perché davvero siamo ritornati questa diventerà la nostra strategia numero uno di mercato cioè il milan quando deve comprare un giocatore e c'è qualcosa che non funziona andiamo a vedere se c'è un cugino un parente sembra veramente ridicola però se poi dovesse essere veramente la scelta io ho detto l'altro giorno bisogna trovare qualcosa una una soluzione alternativa per pagare le commissioni di certo non pensavo al fratello però pensavo che ne so aggiungere dei bonus al calciatore che magari nel contratto adesso non ci sono dei bonus o anche facilmente raggiungibili senza pagare le commissioni te la sbrighi così tanta alla fine soldi e commissioni come vi ho già detto non è che vanno tutti al procuratore vanno una parte al procuratore una parte la famiglia al calciatore e compagnia bella ok quindi tu i soldi del procuratore glieli dai in commissioni quei 6 7 milioni il resto delle commissioni che andrebbero magari al calciatore a chi è glieli infili nel contratto magari al secondo anno fai sbloccare un bonus e puttanate vari e te la riesci a sbrigare così beh loro comunque stanno usando la strategia fratello vediamo come andrà a finire ma se dovesse essere utile ragazzi alla fine per quanto ci può strappare una risata sarei felicissimo anche perché le alternative ragazzi stanno sparendo non ce ne sono più le alternative vanno e oggi sono usciti altri due nomi che altro che vi devo buttare le bestemmie contro di più perché io quei due nomi mi vergogno anche a farli perché non si possono fare perché questi sono peggio della scelta di fonseca allenatore del mina perché con la scelta di fonseca allenatore del mina che è una scelta mediocre io comunque ho detto speriamo nel mercato e magari fonseca speriamo che sia la sorpresa clamorosa ma se tu li fai pure un mercato di merda che deve fare pure fonseca che è già un allenatore mediocre di suo io non voglio il mercato che mi devi andare a comprare i campioni ma manco sta merda che stanno nominando cioè zirze non è un campione è un possibile campione per il futuro farebbe contenta almeno l'80 per cento dei tifosi del mila io mi ci metto in quelli e la chiudiamo lì ma se l'alternativa zirze sono in questo momento ghirassi è andato via david sembrerebbe andare al manchester united che dicevano era interessato a zirze ma non voleva pagare la clausola recissoria quindi mi spiegate in questa notizia come fa essere interessato a zirze ma non vuole pagare la clausola recissoria quando ci sono già squadre pronte a pagare la clausola recissoria e non ha senso quindi se non vuoi pagare la clausola recissoria figuriamoci se vuoi dare le commissioni ok quindi cosa è rimasto è rimasto l'ucraino dobik che comunque come cifre siamo più o meno lì e io ragazzi non lo vorrei dobik l'ho visto giocare mi sembra un pezzo di marmo che non si gira neanche se gli spari e secondo me sarebbe davvero troppo troppo rischioso per i soldi che lo vai a pagare se tu mi dici lo vai a prendere come sorpresa 15 20 milioni di euro ti posso anche dire va bene mi accollo il rischio perché comunque ha fatto bene ha fatto una bella stagione anche se ripeto la bella stagione l'ha fatta in spagna è è tutto che dire quando l'ho visto giocare nazionale mamma mia mi ha fatto veramente pena poi magari adesso si sblocca e farà un bel europeo non lo so vediamo io comunque continuerò a monitorarlo ma comunque parliamo sempre di 40 50 milioni di euro quindi se mi dovete paragonare dobik a zizze onestamente ragazzi non c'è paragone poi l'unico giocatore decente che sembra ancora essere rimasto nel panorama milan che poi decente secondo me molto forte e gimenez altro attaccante fortissimo ma anche lì andiamo sui 50 milioni di euro se non anche di più e non so manco l'ingaggio anche se zizze ha un ingaggiato quindi ragazzi quando mi dite eh ma io tanto le commissioni non le pagherei eh ma andrei su altro altro non c'è perché volete sapere i nomi di oggi e questo è peggio di un film horror cioè io qua devo mettere il bollino vietato ai minori di 70 anni perché questo spaventa i nomi di oggi sono Demirovic che non so manco chi cazzo sia Demirovic attaccante dell'ausburg squadra da metà classifica tedesca Demirovic e addirittura un nome che io avevo fatto ma al posto di Jovic che ripeto è stato confermato nel mina quindi Jovic ha confermato il rinnovo quindi Jovic resterà nel mina gli hanno dato anche la possibilità nel 2025 di rinnovare ancora che va bene io non l'avrei fatto no però comunque se l'è meritato Jovic ma io al posto di Jovic avrei preso questo che stiamo parlando di Depay attaccante svincolato che può andare a prendere gratis ma come alternativa del centravanti da 40 50 milioni non come l'attaccante cioè immaginate un attacco Depayovic oh Depayovic come attacco ma voi siete seri cioè ma voi non volete neanche arrivare nelle prime quattro cioè io qua sto parlando di lottare per vincere ma qua addirittura rischiate anche di non arrivare nelle prime quattro Demirovic e Depay devo sentire al posto di Zirze ma sparite che vi do un cazzotto a testa sparite e quando pensate nella vostra piccola testa di dire eh ma 15 milioni di commissioni sono troppe se non prendi Zirze tu la prossima stagione te la puoi pure sognare e non facciamo lo stesso errore che per 3 4 milioni di commissioni che ormai siete diventati contabili del Milan ma che ve ne fotte a voi ma che fate fate spingete per fargli cacciare sti soldi a sti braccini corti maledetti che ogni volta che c'è da pagare una commissione perdi il calciatore e va nelle altre squadre e poi ti vale il triplo oh ve lo siete dimenticati Turam per non parlare poi di Taremi vediamo adesso Taremi eh no noi 2 3 milioni in più di commissioni non le paghiamo Taremi è andato gratis all'Inter e perché gli altri le pagano le commissioni cosa sono più stupidi però c'hanno i giocatori forti e poi vincono ok quelli hanno preso Turam e hanno vinto lo scudetto eh è che gli è lì servito Turam non è che dici è stata una cosa in più Turam ma è perché gli altri li prendono i giocatori con le commissioni siamo gli unici orgogliosi che non devono pagare quindi io sta roba qua del fratello alla fine mi sembra una minchiata ma spero realmente che sia vero o che facciano qualcosa del genere ma Zirze in questo momento non puoi più non prenderlo o prendi Zirze o prendi Gimenez ma Gimenez vi posso assicurare che vi costerà più di Zirze perché Zirze con 50 milioni te ne riesce a cavare Gimenez secondo me ti sparano anche di più se va ad aggiungersi qualche squadra della Premier League e comunque sta andando a prendere un giocatore che sì sicuramente più bomber di Zirze questo è certo ma stiamo parlando comunque un giocatore sempre che è esploso adesso che deve dimostrare ancora tanto e che non conosce neanche la Serie A perché Zirze comunque la Serie A la conosce ha affrontato già le difese della Serie A e le ha distrutte le ha distrutte perché lasciando perdere che voi considerate ha fatto 11 gol ma è comunque un giocatore che gioca bene dribbla praticamente qualunque difensore quindi conosce già il campione italiano è già uno che fa la differenza in campione italiano con il Bologna figuriamoci cosa potrebbe combinare con il Milan quindi signori non lo so speriamo nel fratello Jordan Zirze ho sempre sognato di averti nel Milan il Milan così